Il mio ringraziamento va a tutte le persone che sono state coinvolte qui oggi e che hanno fatto sì che quello che era il mio desiderio venisse tramutato in realtà. Credo e mi auguro che tutti i propositi che stiamo affrontando con un entusiasmo incredibile possano essere perseguiti e tutti gli obiettivi che abbiamo possano essere raggiunti con semplicità e con fluidità nonostante ci siano stati qualche problema, nonostante ci siano stati qualche situazione anche difficile, ma fa parte del lavoro quando intervengono tante situazioni all'interno di un unico progetto, ma il merito va proprio a tutte le singole istituzioni che hanno fatto sì che oggi siamo qui a presentare specialmente dopo vari tweet, messaggi e comunicazioni varie, quello che per me rappresenta qualcosa di assolutamente non solo piacevole, ma di grandissimo orgoglio e che mi fa enormemente piacere. Ritornare qui in maniera impianta stabile per così lungo tempo non mi era mai stato possibile. Oggi riuscirò a fare con la mia nuova squadra e grazie all'apporto di tutti voi per me significa veramente tanto, per cui rispondere all'assessore o a chiunque il mio entusiasmo e la mia carica per quanto riguarda il pain che verranno svuoti qui sarà più del 100%, per motivi anche emozionali e affettivi.